Wubers potrà ridarvi tutti i vostri nuovi capelli, senza chirurgia. Potrete riavere di nuovo tutti i capelli in solo due sedute. Capelli da lavare, pettinare, tagliare, fonare. Wubers, capelli come prima, innestati su materiale innovativo ed insospettabile. Scegli anche tu di tornare ad essere vincente. Con Wubers adesso puoi telefona per un preventivo totalmente gratuito al numero che vedi in sovraimpressione.